Ciao a tutti amici benvenuti in questo nuovissimo video della Nossoberry riprendiamo da dove ci siamo lasciati l'ultima volta e guardate caso Federico ha chiamato Summer e gli ha chiesto un appuntamento allo Shimizu quindi un ristorante giapponese anche molto elegante e perché loro si sono avvicinati alla sera la sera prima al ballo in discoteca e quindi visto solo 17 46 ora di cena direi proprio di sì vengo vengo sicuro che vengo e quindi andiamo a questo appuntamento sono venuti qua a questo lounge bar e gli dice dai andiamo a bere qualcosa ed è un club molto esclusivo possiamo dire a lei piace comunque queste posti e direi di andare qui a bere qualcosa insieme e continuare a chiacchierare magari ci sediamo qua o qui ai divanetti vabbè che c'è anche una piscina enorme ma direi di non andare in piscina anche perché fa freddo sono le 7 di sera dove siete lei vabbè è un po' stanca però è uscita volentieri ecco aspetta che intanto sviluppo un po' la logica eccetera e direi di ordinare una bevanda e secondo me siccome sono a un pub esclusivo eccetera bevono anche qualcosa secondo me beve anche qualcosa tipo qualcosa di alcolico intendo non un succo col ghiaccio ma magari un cocktail tipo il ridgeport facciamo finta che è un cocktail probabilmente è un cocktail eh dove è il nostro federico qui è uscito un pop up che dice che summer sembra che stia faticando ultimamente a livello emotivo e forse è meglio consultare un psichiatra questo perché io sto ho scaricato una mod che molto presto ve ne parlerò è uscita da pochissimo e appunto ritornando al discorso dell'ultima volta summer appunto fa finta di stare bene ma in verità non sta bene e quando anche il fratello gliene ha parlato che non mangiava tanto eccetera lei si è anche arrabbiata anche sua madre se ne accorta ma lei insomma non è capace di prendere melanie in modo corretto scusa scusate summer in modo corretto vabbè torniamo all'appuntamento magari facciamo qualcosa di romantico flirtiamo scusami siamo all'appuntamento anche se ci siamo seduti lontani parla del matrimonio direi di proprio di no e discutiamo degli interessi anzi non ci possiamo venire a sedere qui che siamo lontano dai abbiamo scoperto che federico è corretto e allegro federico ha avuto un piccolo makeover per quanto riguarda i vestiti perché erano orrendi però il resto non ha cambiato nulla ma federico non viene a sedersi qua con noi no salì puoi sederti qua federico no niente ci sediamo noi vicino a federico ho capito e parlottiamo della costa magari chiediamo degli interessi delle preferenze romantiche cose così cerchiamo di conoscerlo meglio ecco abbiamo bevuto il nostro cocktail cosa gli deve chiedere non l'intendevo così in segreto spettacoliamo anche un po' sammer ha preso l'orientamento romantico di federico e lui vabbè preferisce le donne magari chiacchieriamo vabbè chiediamo della carriera anche se mi sa che gliela avevo già chiesto e poi secondo me lei va dritta al sodo adesso devi tornare va dritta al sodo e gli chiede se chiediamo se è single prima di tutto forse l'avevamo già chiesto volevo vedere la compatibilità loro hanno una buona compatibilità è vero sammer ha preso anche una piccola cotta per questo federico e quindi secondo me gli chiede se vuole diventare il suo fidanzato vediamo ah gli rivela la cotta e gli dice guarda senza troppe tu mi piace tu mi piaci sei molto carino a quanto pare ci sta anche lui e vediamo flirt non mi esce niente vabbè stringiamo vieni qui e poi e poi e poi vediamo qua cosa è uscito un vuole chiedere un appuntamento a federico ok il prossimo appuntamento perché questo è già un appuntamento facciamo qualche barzelletta aneddoto divertente cerchiamo di essere simpatici e tentiamo di sedurre ovviamente no dove che va questo ragazzo qui che ogni due per tre scappa oh il primo bacio allora tentiamo di sedurre e poi gli diamo anche il primo bacio visto che deve andare via e quindi gli diamo questo primo bacio qua sulla porta ma guarda la nostra summer il loro primissimo bacio perché lei di certo non è come Sam che è molto più timido lui e lei lei va dritta al sodo ecco ok e volevo chiedergli di diventare fidanzato oh chiedi di diventare fidanzato così subito poi andiamo in bagno summer tranquilla senti vuoi diventare il mio fidanzato? si ok lei va proprio dritta al sodo facciamo davvero un selfie ok va bello anche lui deve andare è diventato il fidanzato quindi ci siamo fidanzati con questo Federico perché comunque le voleva anche invita a restare per la notte non esageriamo e niente lo salutiamo perché adesso posso scambiare gli anelli di fidanzamento ma direi non esageriamo e vabbè manda un bacio e lo salutiamo perché anche lui deve andare comunque beh adesso devo andare è stata una bella serata grazie e direi di andare a casa vabbè dai lo salutiamo con un bacio lo salutiamo con un bacio e ce ne andiamo oh è diventato anche un buon amico proprio è andato benissimo questo appuntamento oh ma volevo vedere no non posso non so perché non posso fare il selfie va bene dai salutiamo è stato davvero un bellissimo appuntamento grazie dice anche io mi sono divertito molto no è appena diventato è appena diventato giovane adulto davanti ai nostri occhi ma come è appena diventato il nostro fidanzato e ovviamente poi io non posso più no ma che sfigata summer è diventato adulto davanti ai nostri occhi vabbè dai salutiamo ciao ecco perché hai chiesto di uscirgli perché probabilmente era il suo compleanno vabbè ciao Federico eh mannaggia perché adesso non mi dà più interazioni romantiche vabbè vediamo perché comunque lei continua a bere una cotta per lui sì fatti la nostra summer è tornata e direi di mandarla in bagno velocemente e direi di mandarla a dormire perché è un po' stanca e anche il nostro Sam è un po' stanco lui ha già fatto i compiti secondo me si stava messaggiando con Albert secondo me sì guarda ogni due per tre guarda se c'è un messaggio vabbè dai mandagli sto messaggio Albert e invia un sms ecco tipo della buonanotte vai a dormire anche tu e lei invece dov'è è qui magari mangia qualcosa se riesci anche tu devi andare in bagno vabbè ti faccio andare in bagno dopo e io direi che ci vediamo il giorno dopo con la scuola dei gemelli perché il giorno dopo appunto è lunedì eccoci qui alla scuola è un giorno un po' fa caldo però è nuvoloso e appunto lei deve fare gli allenamenti è stanca è molto molto stanca però la mandiamo a fare gli allenamenti come ci dice allora l'allenamento il fratello invece anche lui l'allenamento quindi tutte e due è un bello allenamento mattutino sono un po' tristi perché la festività è stata terribile però va bene dai Albert mi dice che ha saputo della mia amicizia con Federico ed è piuttosto in gamba a quanto pare lo conosce anche lui no gli ha rubato il posto vabbè si fai l'allenamento qua dai Samer è magrissima però ha un corpo lui non è molto contento di fare gli allenamenti non è che gli piaccia molto lo sport però vabbè lo fa deve farlo magari poi parliamo con alcuni studenti visto che vuole incontrare dei propri compagni di classe chiacchierare con gli studenti ecco lui vedete vuole già studiare per gli esami quindi direi oh no ma dai ma si è fatto male ma non hai fatto nulla il nostro povero Sam appunto non è portato per lo sport tallone d'Achille aia Sam si è slogato la caviglia ditemi come fa a slogarsi la caviglia se è seduto però questo è un altro discorso sarebbe meglio andarci piano per un po' ovviamente se il dolore dovesse diventare insopportabile può sempre andare a farsi visita a prendere un antidolorifico mi è caduto una cosa dalla scrivania spero che non avete sentito nulla comunque vabbè adesso si cambia e studia smette subito e direi di cambiare d'abito e ci mettiamo i nostri vestiti e andiamo subito a studiare magari andiamo proprio in classe penso che sia questa la sua classe però non sono sicuro e poverino si è fatto male tanto che tua sorella sta ancora va bene vuole spostarsi andare qui allenamento oltre ai limiti e tu no guardate come cammina ti fa male gli fa male la caviglia ma poverino dai vai in classe spero davvero che sia questa e studia un po' povero allora lei vuole fare gli allenamenti sulla macchina e vuole frequentare la lezione e risultare sgredita a sua mamma vabbè dai direi che ti sei allenata abbastanza oggi abbiamo anche dobbiamo anche andare a fare la cheerleader dobbiamo allenarci con la nostra squadra di cheerleader tu poverino mi sa che non sta tanto bene l'ha distrutto sto allenamento vabbè fai studi per l'esame no vabbè adesso inizia la lezione quindi direi proprio qua lavoriamo sodo e frequentiamo la lezione di matematica vediamo che cosa succede in questa lezione voci di corridoio questo è Sam quello che era iniziato con un semplice bisbiglio tra alcuni studenti della classe si era trasformato in qualcosa di assai più intricato il figlio del cugino della mamma di qualcuno ha fatto un certo qualcosa dopo la scuola nessuno riesce a seguire il filo della storia e quando un compagno chiede a Sam cosa sa dire al riguardo deve fermare la voce o continuare a diffonderla Sam allora se fosse stata Summer secondo me continuava a diffonderla ma siccome Sam lui non gli interessano tutte queste voci di corridoi questi gossip quindi secondo me cercherà di difendere lo studente Sam fa del proprio meglio per appellarsi alle migliori intenzioni dei compagni di classe ma in vano la voce inizia a vivere di vita propria e l'unico risultato che Sam ottiene per aver cercato di fermarla è suscitare l'ira e irritazione dei compagni ma no ma oggi è la giornata no per il nostro Sam si è fatto male irrita i compagni vabbè poverino e anche lui alle 15.30 ha la sua squadra di scacchi cioè deve andare alla squadra insomma allenarsi con la squadra è finito la lezione lui non sta ancora bene povero però vuole le interazioni amichevoli con il corpo decente e quindi parliamo appunto con la professoressa condividi dei brillanti dai invece lei vabbè un po' stanca però andrà qui vai qui però Summer non è felice Summer non è sicura esattamente il perché ma si sente ma si sente triste e non sa la ragione non sa il perché abbia questa tristezza si sente triste infatti cerca di mascherarlo ma lei dentro si sente triste non si sente a suo agio insomma secondo me questi mood sono usciti anche quando il fratello gli ha parlato gli ha detto che forse sua madre aveva ragione e però lei lo vuole ignorare ecco questa cosa allora tu cosa vuoi fare hai esatto interazione amichevoli con l'insegnante dove sei Sam ma poverino ancora qui vieni vieni a mangiare qualcosa mi sa che Sam dovrà andare da un dottore perché questa guarisce tra due giorni questa gamba non va bene la nostra Sam era invece sta andando in bagno no vedete che lei prova questi sentimenti prima era giocosa poi era felice poi adesso è triste diciamo che non sta benissimo vabbè la lascio sfogare un attimo ovviamente il fratello è qui mezzo distrutto gli abbiamo regalato qualcosa all'insegnante è qui che zoppica poverino e usiamo interazione amichevole anche con gli altri studenti magari magari conosciamo questa studentessa presentazione amichevole visto che vuole parlare con gli altri studenti ecco vuole anche pulire la lavagna che bravo e lei è qui ancora che sta piangendo ma perché sei una bellissima ragazza brava sei nelle cheerleader sei una studentessa da dieci l'insegnante è venuto a chiedergli motivo e lei secondo me lei lo manda via e dice senta vada via questo è il bagno delle studentesse delle donne ma no ma poverina lui cercava di consolarla ma lei non gli interessava anzi si è anche arrabbiata vabbè vai alla lezione preparati alla lezione è una giornata di scuola tremenda questa ecco viene in soccorso suo padre secondo me se lo sente e certo risponde oh Mark sta per finire la sua vita sarebbe un buon momento adatto per mettere in ordine i suoi affari povera Melanie e quindi risponderà a suo papà e gli dice si tutto bene però con questa vocina un po' triste di certo non è felice ecco povera Summer dove sta andando scusate ah frequenta la lezione e vabbè anche lei frequenterà ah no chiamata discorsiva con la famiglia secondo me si sta gli sta dicendo che vorrebbe andare a casa sua si sente un po' giù tutte queste cose è sempre molto stanca e secondo me devi andare a lezione hanno appena finito secondo me gli chiede ma tutto bene e lei subito è giocosa adesso gli fa si si per aver pianto in un bagno a volte tutto ciò dico i bisogni Summer per affrontare la giornata e chiudersi in un bagno pubblico e farsi un bel pianto e quindi gli dice si si tutto bene perché comunque la vede un pochino con gli occhi gonfi ma si non preoccuparti adesso dobbiamo tu andare a scacchio e devo prepararmi per andare con la squadra va bene se hai comunque qualcosa da dirmi io sono qui capito perché comunque lui si preoccupa per la sorella e quindi direi di anzi no mi sa che tra poco vanno ecco è ancora triste è un è una montagna russa praticamente i patch amore si credono amorevoli ed inclusive ma in un certo senso sono pessimi quanto gli altri gruppi sociali in quanto cercano di ringraziarsi tutti va bene c'è qualcuno che non gli piace ma io direi di andare tu le cheerleader e tu hai lezioni di scacco di scacchi molto molto piano e povero Sam siamo tornati a casa perché siamo con Mark e mi sa che sono arrivate le bollette quindi intanto tu a casa pagati le bollette e poverino sta finendo i suoi giorni purtroppo perché a Mark era molto più grande di Melanie mi dispiace ecco perché è sempre stato innamorato di Melanie e adesso che è sposato finalmente vive la sua vita con lei dopo poco tempo muore secondo me magari chiacchiera con John e Jacob un po' i suoi figli visto che non li sente quasi mai intanto aspettiamo tutto il resto della famiglia la nostra Summer è tornata e io direi che andrà subito a fare un pisolino perché è molto stanca e Sam vabbè ha fame però io direi di andare dal dottore perché non stai bene e quindi vai dal dottore magari Mark glielo consiglia e allora vai alla clinica medica sportiva addirittura e vai insieme a Mark perché secondo me Mark gli ha visto la caviglia gonfa e gli dice dai ti accompagno io intanto Summer si riposa un po' lo specialista in medicina dello sport ha esaminato l'infortunio di Sam un po' di riposo e alcuni antidolorifici per l'infiammazione sono la miglior cosa da fare per ora se si rivelasse più serio Sam dovrà tornare ok grazie per avermelo detto e va bene quindi prendiamo l'antidolorifico magari secondo me deve prenderli in farmacia perché qui c'è anche la farmacia online e ci prendiamo un antidolorifico perché poverino gli fa tanto male vai alla farmacia ah proprio così va alla farmacia va bene ok gli antidolorifici quindi prendiamo questo e poi il nostro Sam almeno può prendersi una compressa prendi la medicina così magari gli passa un pochino oh che sollievo ecco bravo e tu puoi fare i compiti lei si è svegliata ed è molto stanca e sua mamma secondo me viene qui perché gli dirà una cosa e perché gli vuole parlare e gli chiederà gli chiede se ha bisogno di aiuto perché guardate mamma mia non si sopportano è andata lì con tutte le buone intenzioni del mondo vabbè vuole solo chiedergli se ha bisogno di aiuto vuole vuole dirgli che secondo me secondo lei Summer ha bisogno di aiuto e quindi l'ha scheritta ad un psicoterapeuta e quindi lei non è molto molto felice e anzi ecco lo farà in automatico urla contro sua madre perché dice come ti permetti di fare le cose alle mie spalle però ci dovrà andare ecco però Summer è molto arrabbiata Summer è molto arrabbiata vabbè lui sta meglio per la sua per il sottellone d'Achille e quindi e ovviamente inizieranno anche lì a discutere lo stanno facendo in automatico da sole e vabbè quindi secondo me discuteranno gli chiede qual è il suo problema prima di tutto e poi infatti la loro dinamica familiare è molto difficoltosa e Summer gli dice che queste tensioni non dipendono da lei o almeno non del tutto e ha tutto il diritto di nutrire del risentimento per ciò che è accaduto tra di noi quindi sta parlando del divorzio e del fatto che Melanie si è sposata con Mark eccetera eccetera tutto quello che sappiamo e questa cosa proprio non riesce a farla cioè non riesce a digerirla ecco e vabbè penso che Melanie se ne va però gli dice intanto comunque ti ho scritta questo da questo medico io ho preso l'appuntamento e tu ci devi andare cioè non mi interessa fin quando sei in questa casa tu devi devi stare alle regole di casa quindi tu ci andrai domani non mi interessa e con questo bel discorso amichevole se ne va a dormire ovviamente per Summer la conversazione è stata super irritante e com'è possibile che siamo parenti Summer stenta a capacitarsi di come possa essere imparentata con alcuni membri della famiglia a volte le parentele possono essere davvero complicate eh sì soprattutto con sua mamma infatti anche qui Summer si sente molto stressata e e ha bisogno anche di pochi momenti di pace e tranquillità adesso è anche svenuta dal sonno infatti la metterò a letto poverina e il nostro Mark vabbè anche lui è stanco povero vai a letto e il nostro Sam qua è l'unico a studiare perché lui studia è bravo e con un Sam che sta studiando gli direi di concludere qui la puntata quindi vi ringrazio tantissimo di aver visto il video fino a questo punto vi ricordo di mettere un mi piace di iscrivervi al canale io vi mando un grosso bacio alla prossima ciao